Il case SSD M.2 più economico su Amazon. Ciao e bentornati dal vostro Loretech. L'avvento degli SSD M.2 è sempre più frequente ed è per questo che si va alla ricerca di box esterni per collegarli ai nostri PC ed è per questo che ho deciso di acquistare lui il box esterno per SSD M.2 più economico su Amazon. Sarà all'altezza delle aspettative? In questo video vedremo l'unboxing e dei benchmark, faremo dei test e vedremo come si comporta ma direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito. Prima di cominciare con l'unboxing vediamo un attimo la confezione bianca con il brand SSK M.2 SSD enclosure HE C322. Type C quindi già qua ci fa capire il tipo di connessione, USB 3.2 Gen 2. Qua abbiamo l'anteprima con questo case in alluminio e il logo SSK, qui ci dovrebbe, e qua c'è una piccola freccetta, M.2 NGFF. Nella parte posteriore abbiamo un po' di specifiche, interfaccia tipo C, USB C, USB 3.2 Gen 2, 6 gigabit e qua abbiamo tutte le dimensioni degli SSD che possiamo andare a montare. Non ci serviranno le forbici per questo unboxing, ok non volevo distruggere la scatola, ok allora che cosa abbiamo al suo interno? Un manuale di istruzioni, dei pad termici, viti, il cavetto, non male non mi fa impazzire ma non male. Da un'estremità USB C, dall'altra estremità è USB A, il colore blu vi sta a indicare che è un'interfaccia USB 3.2 in dotazione, poi ci danno anche questo adattatore da USB A a USB C, abbiamo il nostro SSD, completamente in alluminio con il brand SSK, qua abbiamo la freccetta, vi faccio vedere questa parte USB C, qui probabilmente vedremo poi a cosa servirà, qua abbiamo un lucchetto di apertura e chiusura, proviamo a vedere, ecco, ah perfetto, vedete? Quindi spingendo verso sinistra viene estratto, allora qua abbiamo una parte in plastica, qua abbiamo l'elettronica e qua viene inserito l'SSD e poi probabilmente fermato con le viti che ci danno in dotazione, possiamo inserire diverse dimensioni di SSD. Direi di andarlo a montare subito. Ho dato un'occhiata al libretto di istruzioni, abbiamo queste due viti, la vite più piccola verrà inserita sotto e la vite più grande servirà come fermo. Andiamo a prendere il nostro SSD M.2, questo è l'SSD che andremo a utilizzare, è un NVMe di Intel, un taglio da 128GB. Andiamo a tagliare la bustina, nella bustina sono presenti le due viti, allora prendiamo intanto la misura, ok, è questa quindi sarà nell'ultimo foro, lo andiamo a capovolgere, andiamo a inserire la vite qui, la teniamo con una mano, in questo modo, in modo da non farla scivolare, andiamo a innestare il nostro SSD, mi raccomando, seguite il verso. Cioè ragazzi non entra, non so che dirvi, proverò con un altro SSD, però il taglio corrisponde, molto strano devo dire. Ho fatto un'altra prova, ho rimosso il mio SSD M.2 da questo PC, adesso lo andremo a provare, vediamo se magari è il tipo di SSD. Ok, lo andiamo a capovolgere, no ragazzi non entra, cioè non so, non saprei, in realtà non capisco dove stia il problema, però non entra, boh, forse c'è qualche difetto di fabbricazione, pazienza, fare il reso. Ragazzi mi dispiace, non compratelo, non sono riuscito a installare l'SSD M.2, né il primo di Intel, né anche il secondo di Patriot, quindi magari è un problema costruttivo, non lo so, ho letto la recensione prima di acquistarlo, ed era comunque compatibile. Mi piace la possibilità che sia in alluminio, sì magari è un po' scomoda l'apertura, ma non è che lo apriamo e lo chiudiamo magari 50 volte. Sì, il discorso della vite per bloccare l'SSD, magari è un po' scomodo, potevano già fare una vita integrata, ma comunque quelli sono problemi risolvibili. Il prezzo è veramente molto molto allettante, parliamo di circa 15 euro. Ci danno anche un cavo USB-C, USB-A, ci danno anche l'adattatore in confezione, per cui sulla carta poteva essere molto performante, però purtroppo non si riescono a installare SSD M.2. Questo è anche il bello di portarvi delle recensioni sincere anche qui su YouTube. Adesso però voglio sapere la vostra, che cosa ne pensate di questo case SSD M.2 di SSK? Che marche, che brand utilizzate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Avevo un progettino molto particolare per lui, ma chiamerò Amazon ed effettuerò il reso. Grazie Amazon. Adesso è arrivato il momento di salutarci da SSK SSD. Allora, è che era tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!